L'assessore allo sport Walter De Bortoli presenta la ventitresima edizione di Iron Fighter, sport da combattimento di caratura internazionale che avrà luogo il 27 marzo al Pallaflora a partire dalle 14. Un appuntamento ormai consolidato ed è uno sport molto particolare. Ho scontrato che in questi atleti c'è un grandissimo rispetto dell'avversario. Difatti ci sono atti e gesti che l'avversario compie quando è in difficoltà perché l'altro si fermi immediatamente sul combattimento. È una preparazione fisica e atletica molto importante e anche psicologica per cui non tutti penso la possono fare ma soltanto i più tenaci e i più costanti negli allenamenti presso una palestra seria dove l'istruttore deve avere grande qualità. È la Comba Gym che organizza questa manifestazione ormai puntualmente ogni anno a tutte queste qualità non soltanto per far esercitare o allenare questi ragazzi ma anche poi per organizzare una manifestazione come questa di carattere internazionale. Essendo con Alessandro Ciriani mi dice di congratularsi con la Comba Gym per aver scelto Pordenone ancora una volta. Facendo i complimenti anche agli atleti impegnati nel campo soprattutto quelli che rappresentano l'Italia, la nostra città e anche la Comba Gym di Pordenone. Gian Battista Boer, tecnico e presidente AS di Combat Gym che la organizza, ci spiega il valore e l'importanza di questa disciplina nel panorama sportivo. Un successo che deve ripartire perché dopo due anni di Covid che siamo stati bloccati è praticamente lo sport per antonomasia di questa disciplina che va avanti da 23 anni. Ormai è la prima del 2000 che proponiamo questa Kermess con atleti e campioni che sono venuti da tutto il mondo e che hanno caratterizzato le varie discipline che hanno fatto questo Iron Fighting che ha preso il nome già da lontano 2000. Quest'anno più delle altre volte abbiamo aumentato ancora di più e siamo arrivati al titolo mondiale. Il titolo mondiale è ridato, molto atteso anche perché una cintura come quella che proponiamo penso sia la cintura più ambita al mondo proprio per la tipologia della sigla. Isca è una sigla mondiale, infatti sulle due flange laterali ci sono impregnate tutti i paesi in cui questa sigla viene usata. E' una sigla mondiale per cui avere una cintura del genere in casa sia come società che come atleta ha un pregio veramente importante. Domenica quindi da seguire gli incontri in cui si affronteranno atleti di varie categorie, dai bambini agli adulti e campioni per la conquista di due titoli, italiano nella categoria 87 kg e mondiale dell'Isca superiore ai 100 kg.